Sixty Seconds del venerdì pomeriggio, cari amici, oggi si fa fatica a trovare un'espressione che sia innanzitutto utilizzabile e che possa dare anche lontanamente l'idea di ciò a cui siamo stati costretti, qui siamo costretti, usiamo il presente, mi sembra più corretto ad assistere, riferimento ovvio alle immagini arrivate dal centro, tra l'altro, del Donbass, proprio quel Donbass rivendicato dai russi come russo, come territorio russo di Kromatorsk, sul quale si sarebbe abbattuto un missile facendo strage, si parla in questo momento, mentre registriamo, di circa 50 vittime, oltre 100 feriti, fra quelle 50 vittime 10 sarebbero bambini. Condizionale resta d'obbligo, ma le immagini le abbiamo viste, tra tutte ce n'è una che io lascio da parte un attimo il missile, la scritta bambini in cirillico sul motore del missile, chiaramente visibile e via dicendo, mi concentro perché qui, come dire, è abbastanza semplice entrare in un dibattito che, cominciando a cercare motivazione da una parte o dall'altra, ci distrae, ci allontana dalla tragedia assoluta che è un fatto, ossia quei passeggini, quei bagagli, ancora una volta i trolli, ricordate la famiglia con i trolli intatti, la famiglia sterminata da un colpo di mortaio? Ecco qui, quel mare di trolli e di passeggini in mezzo al sangue della stazione di Kromatorsk. È un'immagine in cui non si vede un corpo, in quella foto, in quella istantanea, per essere precisi, ce ne sono altre in cui purtroppo i corpi ci sono e come, ma di una tale violenza. E mentre ci troviamo al confronto di tutto questo, io che vi devo dire? Mi è capitato oggi, ora direte, ma è uno, non è uno, sono due, sono quattro, sono dieci, sono venti, sono cinquanta. Un signore che nel commentare, una mia riflessione di questi giorni, si parlava d'altro, ovviamente, non era di oggi, mi ha risposto, ma io devo morire di caldo per Draghi? Il sottinteso, il non detto per questa guerra che non mi riguarda. Ma come abbiamo potuto generare, in realtà io lo so, più volte ne ho parlato anche in questi spazi, come abbiamo potuto, domanda retorica, generare un simile abisso di nulla in questo paese. Eh, lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto con anni di nulla. E dopo anni di nulla, elevato al sistema, succede questo. Trovi quello lì che ti dice, ma io devo morire di caldo. Capito il suo problema. Poi usa anche il verbo morire. Usa anche il verbo morire.